Limiterei le dichiarazioni dell'On. Castiglione a un fatto locale. L'On. Castiglione non può immaginare che una difficoltà che pure c'è va risolta a Catania, in provincia di Catania, possa riverberarsi in tutta la Sicilia e mettere in crisi la Casa delle Libertà, che con la guida a Cuffaro dimostra di sapere resistere, anzi, si rilancia in questo nuovo autunno di legislazione e i rapporti tra gli alleati sono ben solidi. Basta ricordare il recente accordo politico programmatico tra l'Udc, tra noi e l'MPA, che rafforza la coalizione e rafforza il governo Cuffaro. Rispetto a questo noi immaginiamo che ci sia anche, da parte di Forza Italia, la disponibilità a trovare le ragioni che ci uniscono, anziché quelle poche che ci dividono. Quindi c'è la speranza che con la ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva e l'Assemblea regionale, possa operare adeguatamente dopo l'impasto. E il nostro auspicio lavoreremo per questo.